nel blu dipinto di blu cantava modugno in uno dei brani simbolo della nostra bella italia il blu non può mancare nel guardaroba di un uomo e di una donna infatti si dice indossare blu non si sbaglia mai tuttavia il blu non è un colore perfetto solo per l'abbigliamento ma anche per vestire la nostra casa i motivi sono molteplici prima di tutto perché è un colore che rilassa e favorisce la concentrazione secondo perché è molto versatile ed è perfetto per personalizzare le varie stanze dal bagno al soggiorno e infine perché diciamocelo non stanca mai eh sì è un grande classico al quale sono particolarmente affezionato nella tonalità all'epoca inedita del mio barba papà che avevo realizzato insieme a covema vernici era il colore protagonista del mio fuorisalone 2018 che si chiamava ruviu 4.0 lo avevo utilizzato appunto per le pareti e il soffitto della zona giorno e a contrasto con il color senapo dei complementi degli accessori d'arredo grazie all'idrosmalto murale senior di covema avevo ottenuto quel finish opaco e molto intenso perfetto per valorizzare questa particolare tonalità di blu in quella settimana trascorrendo tutto il giorno all'interno dell'installazione me nero completamente innamorato mi faceva sentire a mio agio e riusciva a rilassarmi nelle giornate frenetiche di quella design week ma a proposito della design week e della mia cartella colori covema chissà quale sarà il mio nuovo colore vi tengo ancora un po sulle spine alla prossima volta ve lo dirò